Sono 14.224 i posti disponibili in tutta Italia per i corsi al numero programmato di specializzazione sul sostegno, indetti dal MIUR con decreto ministeriale numero 92 dell'8 febbraio 2019. La tabella contenente il numero esatto dei posti autorizzati per l'anno accademico 2018 e 2019 nelle varie università è allegata al decreto ministeriale 118 del 21 febbraio. Il decreto ministeriale numero 158 del 27 febbraio reca invece lo spostamento delle date delle prove preselettive fissate inizialmente per il 28 e 29 marzo ma che si svolgeranno invece il 15 e 16 aprile. In particolare per la scuola dell'infanzia le prove si svolgeranno la mattina del 15 aprile mentre il pomeriggio si terranno quelle per la scuola primaria. Per la scuola secondaria di primo grado si svolgeranno la mattina del 16 aprile e per la scuola secondaria di secondo grado invece il pomeriggio. Ma in cosa consiste il corso? Il corso di formazione per il sostegno è un corso volto alla preparazione di docenti con competenze specialistiche in attività educativo didattiche che promuovono il processo di integrazione degli alunni con disabilità. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità che consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato sui relativi posti disponibili. È un corso della durata minima di almeno 8 mesi che prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi suddivisi in 36 CFU insegnamenti disciplinari, 6 laboratori, 6 tirocino diretto, 3 tirocino indiretto, 3 tirocino indiretto con le TIC, 3 CFU prova finale. Corrispondenti al seguente impegno orario, 288 ore di lezione degli insegnamenti disciplinari, 180 ore di laboratorio, 225 ore di tirocino indiretto e diretto, 75 ore di tirocino indiretto con le TIC. Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti e per quanto riguarda il tirocino ai laboratori, vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste. Per la preparazione ai test preselettivi del 15-16 aprile, la tecnica della scuola propone alcuni corsi learning e webinar su alcune tematiche delle prove. Per saperne di più, visitate il sito www.tecnicadellascuola.it e continuate a seguirci per restare sempre aggiornati su tutte le novità. Grazie a tutti.